Nei momenti difficili e bui abbiamo il coraggio di dire benedetto sei tuo Signore, lodare il Signore. Come Gesù in un momento buio loda il Padre, perché impariamo che attraverso quella salita, quel sentiero difficile, si arriva a vedere un panorama nuovo, un orizzonte più aperto. Lodare è come respirare ossigeno puro, ti purifica l'anima. Ti fa guardare lontano, non rimanere imprigionato nel momento difficile, buio delle difficoltà. Lodare il Signore, questo ci farà tanto bene.